L'apertura del nostro notiziario ci porta a parlare di quella smentita che arriva direttamente dalla regione circa il fatto che l'Abruzzo, come si era diffusa, insomma falsamente questa notizia, potesse essere entrato in zona gialla. La smentita, dicevamo, arriva direttamente dalla regione, c'era stato un fraintendimento soprattutto legato ad una classifica, diciamo, ad una dei dati che erano stati rielaborati da un'agenzia europea che si occupa di mappare appunto i dati sanitari dei paesi, degli stati membri dell'Unione Europea, però la smentita appunto è questa. L'Abruzzo non è in zona gialla, soprattutto perché i parametri legati all'ospedalizzazione parlano di numeri ancora bassi per la nostra regione, ma per saperne di più ci colleghiamo direttamente in diretta appunto da Pescara con la nostra Gigliola Edmondo che è in compagnia dell'assessore regionale della Sanità Nicoletta Veri. Gigliola, buongiorno a te. Allora, quali sono le notizie che arrivano direttamente dalla fonte dell'assessorato? Sì, buon pomeriggio Anna, con Diego Martelli, come dicevi tu, ci troviamo a Pescara, l'assessorato regionale alla salute. Io sono accanto all'assessore regionale Nicoletta Veri e hai già perfettamente anticipato tutto quanto, che hai sintetizzato perfettamente com'è la situazione, cioè che le notizie che si sono diffuse nelle ultime ore stanno creando preoccupazione su tutto il territorio abruzzese e riguardano il ritorno in zona gialla a causa dell'aumento del numero dei contagi. Questa confusione è stata generata dalla classifica europea dell'ACDC, che è il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che prende a riferimento il vecchio RT. E quindi abbiamo deciso di fare chiarezza, lo abbiamo già pubblicato, devo dire la verità, l'abbiamo già anticipato sul sito reteotto.it, ma adesso sarà proprio l'assessore Veri a confermarci se l'Abruzzo non rischia il ritorno in zona gialla e se ci spiega quali sono i parametri che vengono presi, quale riferimento, quelli che poi determinano queste decisioni. Sì, è vero, l'Abruzzo non rischia il ritorno a zona gialla ad oggi in base proprio ai parametri che vengono presi in considerazione dal Ministero per il cambio di colore di una regione. Noi non superiamo le soglie fissate su tutti e tre gli indicatori. Le terapie intensive sono occupate al 3% e la soglia d'allarme è 10%. L'area medica è al 5%, la soglia di allarme è 15%, mentre l'ultima incidenza settimanale che viene calcolata dall'Agenas è ancora, seppur di poco, sotto il 50%. Questo vuol dire che è vero che noi abbiamo un aumento dei casi nella nostra regione, ma non ci sono gli indicatori ad oggi per avere questo timore. Tra l'altro, Anna, si parlava di zona gialla, ma quei parametri presi in esame dall'SDC non prevedono la zona gialla, bensì quella arancione. Tra l'altro, volevo precisare anche questo, ma c'è comunque da preoccuparsi... Questo porta ad una confusione, perché noi dobbiamo fare riferimento ai nostri parametri nazionali che sono stati cambiati dal Ministero negli ultimi mesi. Quindi questo è il nostro punto di riferimento. Ma c'è comunque da preoccuparsi per l'aumento dei contagi in Abruzzo che si sta registrando in questi ultimi giorni? L'Abruzzo, così come in tutte le regioni, ma soprattutto a livello nazionale, europeo, anche ha un aumento di contagi, specialmente in alcune zone, in alcune province. Noi stiamo mettendo in sistema, come sempre, tutta l'attività di prevenzione, tutta l'attività di monitoraggio. Prevalentemente i casi positivi sono relativi ai non vaccinati e soprattutto ai ragazzi in età scolare. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha detto che le mascherine restano obbligatorie al chiuso, ma vanno usate anche in casi in cui c'è il rischio di assembramento. In Abruzzo quali regole bisogna ancora seguire, quali sono quelle in vigore e cosa vuole dire soprattutto a chi ci sta seguendo? Sì, è vero, bisogna continuare a rispettare tutte le norme comportamentali dell'indossare le mascherine, del distanziamento, ma posso anche preannunciare che a breve faremo delle ordinanze in quei comuni dove c'è un maggior rischio proprio sulle norme comportamentali, sul rispettare queste regole, che è fondamentale. Siamo nel periodo in cui è aumentato il freddo, diciamo, per cui si vive più negli ambienti chiusi, meno all'aperto, quindi maggior rischio di contagio e quindi maggiore prevenzione. Le prime facevano riferimento alla campagna vaccinale. Ci sono delle ultime novità che riguardano la somministrazione delle terze dosi? Sì, tutti coloro che hanno compiuto i 60 anni, quindi dagli over 60, come abbiamo fatto già anticipato, si possono iscrivere nella nostra piattaforma post e prenotare la terza dose. Devo dare un dato importante che oggi abbiamo somministrato oltre 35.000 dosi, quindi vuol dire che c'è una richiesta, c'è un'attenzione a questa terza dose e che, come sempre voi sapete, poi la vaccinazione diventa e resta l'unico strumento per prevenire la pandemia. Anna, se non ho domande, io ringrazio l'assessore Everì per aver in pochissimo tempo chiarito tutta la situazione, ringrazio anche Diego Martelli e Francesco Flamminio per la preziosa collaborazione. Grazie Giulio, altre domande magari le porrai direttamente tu all'assessore perché questa sera vi ricordo che alle 20.05 ci sarà proprio uno speciale che tratterà la questione fin qui argomentata.